Primo Levi nel suo ultimo libro, I sommersi e salvati, in un capitolo dedicato alla comunicazione ci spiega un fattore molto importante che poteva determinare la sopravvivenza all'interno del lager e per spiegare questo concetto accenna la storia di un bambino che aveva raccontato nella tregua. Di lui non si sapeva nulla, il nome che gli avevano dato, Urbinek, derivava da un verso che emetteva ogni tanto e che una donna aveva così interpretato. Doveva avere all'incirca tre anni e non sapeva parlare. Era paralizzato dalla vita in giù e, come per compensazione, i suoi occhi scorrevano da una parte all'altra con grande vivacità quasi a voler comunicare il bisogno di esprimersi. L'unico che se ne prendeva cura era Enek, un ragazzo di 15 anni che gli sedeva accanto. Gli portava da mangiare, gli sistemava le coperte, lo ripuliva e gli parlava. L'unica traccia di questo bambino che non ha avuto la possibilità di diventare una creatura umana è quella che ci lascia Levi. Urbinek, che aveva tre anni e forse era nato in Auschwitz e non aveva mai visto un albero. Urbinek, che aveva combattuto come un uomo fino all'ultimo respiro, per conquistarsi l'entrata nel mondo degli uomini da cui una potenza bestiale lo aveva bandito. Urbinek, il senza nome, il cui minuscolo avambraccio era pure stato segnato col tatuaggio di Auschwitz. Urbinek morì ai primi giorni del marzo 1945, libero ma non redento. Nulla resta di lui, egli testimonia attraverso queste mie parole. I prigionieri che non conoscevano il tedesco erano costretti a subire la perdita di umanità da parte dell'SS, ma a questo bambino non gli si consentiva nemmeno di imparare il linguaggio, e cioè la prima vera forma di umanità. Perché dico che chi non conosceva il tedesco era costretto a subire la perdita di umanità da parte dell'SS? Perché, ci dice Levi, le SS erano formate da giovani incolti e indottrinati a pensare che la civiltà tedesca fosse l'unica esistente. Per loro, tutte le altre civiltà erano accettabili a patto che contenessero un elemento germanico, perciò chi non capiva il tedesco era per definizione un barbaro. Se si ostinava a cercare di esprimersi nella sua lingua, anzi nella sua non lingua, bisognava farlo tacere a botte e rimetterlo al suo posto, attirare, portare e spingere, perché non era un mensch, un essere umano. Chi capiva la lingua riusciva a instaurare una parvenza di rapporto umano, chi invece no diventava come una bestia sottomessa. La perdita di fiducia nel linguaggio causava l'incomunicabilità, che a sua volta portava alla perdita del senso dell'uomo e quindi alla caduta nel non umano. Se qualcuno esercita su di te un potere violento fatto di urla e pugni, crolla in automatico la possibilità di comunicazione, perché non osi neanche più rivolgergli la parola, senza contare che se non capisci gli ordini di vieti e le prescrizioni, ti rendi conto che la comunicazione porta all'informazione e che senza informazione non puoi vivere. Quasi tutti i prigionieri che non conoscevano il tedesco sono morti nei primi 15 giorni. La morte poteva essere dovuta, a seconda dei casi, alla fame, al freddo, alla fatica, alla malattia, ma in realtà la causa vera e propria era dovuta all'insufficienza di informazioni. Se non sai parlare tedesco, non sai quando ti forniscono il pasto, non sei in grado di procurarti abiti, scarpe o cibo illegale, di evitare il lavoro più duro o di gestire le inevitabili malattie. Levi dice che nella loro memoria, nella memoria dei superstiti poco ferrati per le lingue, i primi giorni di Lager sono rimasti impressi come un film sonoro ma non parlato, perché sì, senti le voci, ma non affiorano, perché non riesci a comprenderle. Se vi interessa quello che faccio io vi invito a iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, video che sarà dedicato a questo libro di Michela Ponzani. Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!